bene buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo contenuto oggi parlo di differenze tra il sistema bancario tradizionale sistema finanziario tradizionale e il sistema basato su bitcoin classifico questo video come un video semplice a basso contenuto tecnico adatto a tutti e anzi un video che suggerisco a tutte le persone che si stanno avvicinando bitcoin quindi soprattutto per tutte le persone che si avvicinano a bitcoin e non hanno ancora forse compreso quali sono le vere ragioni per le quali ci dobbiamo interessare a bitcoin tutti quelli che sono si sono avvicinati a bitcoin ma per un motivo legato al profitto per un motivo legato al presto all'aumento della loro del loro possesso di fiat eccetera quindi tutte le persone che ancora non hanno ben capito qual è effettivamente la ragione per la quale dobbiamo interessarci a bitcoin quindi è un video questo qui sostanzialmente di tipo diciamo etico e filosofico che però vi aiuterà a capire il motivo reale per il quale bitcoin è così importante e il motivo per il quale anch'io sono qui a parlarne costantemente gratuitamente su questo canale per voi insomma per cercare di diffondere un po' questi contenuti tra l'altro vi invito a iscrivervi al canale qualora questi argomenti siano di vostro interesse il canale diffonde informazioni di tipo tecnico ma anche non necessariamente strettamente tecnico su bitcoin light in network nostre e libertà di parola dunque facciamo un attimo un parallelismo tra sistema tradizionale sistema finanziario tradizionale e sistema basato su bitcoin dunque questo perché perché dobbiamo capire quale sono le differenze dobbiamo capire per quale motivo è bitcoin ciò che effettivamente può essere il futuro di una finanza libera allora la prima cosa da capire è cosa avviene nel sistema tradizionale nel momento in cui vogliamo entrare nel sistema tradizionale quindi nel sistema finanziario tradizionale di solito abbiamo bisogno di entrare nel sistema finanziario perché dobbiamo ricevere dei pagamenti pensiamo al nostro stipendio per dire o dobbiamo effettuare delle transazioni perché vogliamo comprare qualcosa abbiamo bisogno di un conto per fare un bonifico abbiamo bisogno di una carta di credito abbiamo bisogno di uno strumento di pagamento di uno strumento di incasso tutti questi servizi sono forniti nel sistema tradizionale sono a nostra disposizione ma sono condizionati da una soglia di entrata cioè possiamo entrare in questo sistema tradizionale solamente se troviamo un intermediario finanziario disposto a permetterci questo accesso questo accesso sarà condizionato da determinate condizioni che potranno essere di tipo patrimoniale di tipo comportamentale cioè che tipo di persona siamo come ci comportiamo cosa abbiamo fatto come lavoriamo che tipo di attività abbiamo da tutta una serie di discriminanti che saranno ampiamente analizzate dall'intermediario finanziario quindi abbiamo bisogno di un permesso per aprire un conto per ricevere dei pagamenti sostanzialmente dobbiamo fornire spiegazioni dobbiamo dare informazioni dobbiamo fornire documenti giustificazioni spiegare il motivo per il quale vogliamo transare con chi vogliamo transare da dove riceviamo i fondi chi ci ha dato i fondi perché ci ha dato questi fondi una volta che avremo fornito tutte queste informazioni questi dati questi documenti e quindi diciamo con un grande vulnus della nostra privacy perché ovviamente siamo costretti a dare delle informazioni che non vorremmo dare quindi diciamo così siamo già in una forma di violenza nella quale dobbiamo per forza fornire determinate cose che non vorremmo fornire a sconosciuti la banca comunque è uno sconosciuto non abbiamo alcuna garanzia di che cosa succederà con questi dati che cosa dove andranno i nostri documenti e ovviamente non stiamo a parlare di leggi sulla privacy perché scendiamo nel ridicolo quindi una volta avuto questo permesso dicevo verrà creata un'identità locale cosa significa chiamiamola numero di conto no un'identità locale sulla banca in questione e avremo un uno strumento di firma quindi avremo uno strumento che ci permetterà di firmare le transazioni questo lo dico in questo modo per dopo fare parallelismo con bitcoin quindi a questo punto avremo una nostra identità locale collegato appunto numero di conto un indirizzo iban sul quale ricevere i pagamenti e potremo transare grazie a questa firma elettronica diciamo così tramite un device tramite una password tramite qualcosa che la banca ci fornirà naturalmente la firma non basterà per effettuare una transazione la transazione sarà sottoposta a ulteriori condizionamenti avremo bisogno del loro benestare per effettuare una transazione ci verranno probabilmente chieste ulteriori informazioni e questo pagamento potrebbe anche non non essere effettuato quindi la nostra firma non è vincolante non è che una volta che abbiamo firmato effettivamente questa transazione questo pagamento abbiamo una garanzia che esso verrà effettuato quindi possiamo essere diciamo così ancora una volta soggetti a nuove richieste di informazioni quindi in sostanza possiamo dire che la nostra transazione può essere ricattabile quindi ci può essere una determinata nuova richiesta di informazioni documenti o altre condizioni che possa in qualche modo essere la condizione per la quale la nostra transazione possa effettivamente essere portata a buon fine questo è quello che avviene come punto 1 nel sistema tradizionale facciamo il parallelismo cosa succede con bitcoin con bitcoin non opera bisogno di un permesso non ho neanche nessuna coercizione nel senso che posso decidere se voglio entrare bitcoin posso decidere se voglio entrare o se non voglio entrare nessuno mi obbliga a farlo e nessuno mi impedisce di farlo quindi non ho bisogno del permesso cosa mi serve semplicemente sostanzialmente mi servono delle chiavi mi devo creare una coppia di chiavi che poi questa sia una singola coppia di chiavi o un albero di chiavi non fa nessuna differenza ho bisogno comunque di una coppia di chiavi in questo modo definisco la mia identità in bitcoin e qualunque strumento software wallet software o qualunque strumento hardware hardware device decida di usare con questa coppia di chiavi mi permetterà di effettuare delle transazioni non dovrò chiedere il permesso nessuno non dovrò fornire alcune informazioni a nessuno la mia privacy riguardo i miei fondi che cosa ci faccio dove li mando a chi li mando per quale motivo li mando non mi verrà chiesto da nessuno naturalmente mi riferisco ovviamente a un caso in cui sono sto transando on chain su un wallet non custodial di cui io possiedo in modo esclusivo le chiavi quindi non mi riferisco a tutta la situazione di exchange centralizzati dove le chiavi sono in realtà gestite dall'intermediario quindi siamo in una situazione molto simile a una banca una volta creata la mia identità io potrò transare chiedendo facendo fidamento solamente alle regole del protocollo dovrò sostanzialmente aderire alle regole del protocollo che sono regole insite nel protocollo di bitcoin quindi nessuno potrà influenzare questa cosa nessuno potrà censurare questa transazione nessuno potrà chiedermi una ulteriore condizione per questa per portare a termine questa transazione quindi la mia transazione non è ricattabile su bitcoin per quanto riguarda il secondo punto torniamo alla finanza tradizionale dunque che cosa succede se per qualche motivo il mio comportamento in in qualche modo viola le regole di questo intermediario finanziario a un certo livello oppure le regole del organismo regolatore oppure le regole statali o comunque qualche altro genere di regole in modo univoco stabilite univocamente quindi non d'accordo con me ma stabilite univocamente dalla banca o da questo intermediario finanziario o quant'altro ecco dicevo se il mio comportamento viola queste regole anche quindi nel corso del rapporto quindi quando la situazione mio conto è già aperto io sto già diciamo così cominciando a lavorare con mio conto ecco se mi trovo in questa situazione potrei avere in modo unilaterale senza spiegazioni senza giustificazione comunque il mio conto chiuso e perché no anche i fondi bloccati sui fondi bloccati parleremo più tardi comunque avere il conto bloccato immaginiamoci avere il conto chiuso avere la relazione bancaria terminata significa di fatto essere escluso dal sistema finanziario con delle conseguenze sulla mia sussistenza perché chiaro che sia sono escluso sistema finanziario non posso ricevere pagamenti non posso quindi nemmeno effettuare delle transazioni sono escluso dal sistema e ho un rischio anche di poter non sussistere quindi è una anche questa di questo punto 2 una un attacco violento un attacco violento che in questo caso comporta anche un rischio della mia personale sussistenza con bitcoin cosa succede al punto 2 nessuno mi può impedire di transare nessuno mi può estromettere dal sistema finanziario perché io ho creato una coppia di chiavi io detengo la chiave privata e qualunque sia il mio comportamento qualunque sia la mia estrazione sociale la mia il mio orientamento politico o il mio comportamento pubblico non influenza il fatto che io possa effettuare una transazione la transazione è esclusivamente soggetta alle regole del protocollo nessuno può estromettermi dal sistema finanziario bitcoin punto 3 la privacy con le banche che cosa succede con le banche ai privacy zero verso la banca perché ovviamente la banca ti ha chiesto tantissime informazioni ti ha chiesto tantissimi documenti tantissimi e dati quindi ai zero privacy verso la banca la banca avrà tutte le informazioni che riguardano il tuo stato patrimoniale da dove provengono i tuoi fondi che tipo di lavoro fai cosa metti nella dichiarazione dei redditi cosa spendi per i tuoi figli cosa spendi per la sanità eccetera eccetera però hai in un certo senso diciamo generalmente perché in realtà non è proprio così ma generalmente non ci sono visibilità pubbliche delle tue transazioni quindi le transazioni che fai con la attraverso la banca dal momento che in realtà non sono effettivamente transazioni che fai tu ma sono transazioni che fa la banca con un tuo input ma comunque le fa la banca non hai diciamo così visibilità pubblica di queste transazioni quindi generalmente queste transazioni non sono pubblicamente accessibili questo naturalmente ha delle esclusioni ma diciamo che generalmente così per quanto riguarda bitcoin che cosa succede con bitcoin hai uno pseudonimato nelle tue transazioni quindi le tue transazioni sono di fatto pubbliche perché sono scritte sulla time chain quindi sono pubbliche tutti i nodi presenti sul pianeta per sempre avranno la tua transazione le tue transazioni scritte e scaricate localmente quindi questo significa che chiunque potrà vedere questa questa transazione ma queste transazioni sono collegate a degli indirizzi pseudonimi no che non hanno non sono riconducibile identità identità fisiche naturalmente questo fatto eccezione di exchange centralizzati che vuoi sì è fatta eccezione di chain analysis e quindi di mala gestione personale della propria privacy ma diciamo che in generale è questo quindi l'approccio della privacy è completamente diverso tra il sistema tradizionale e il sistema bitcoin quarto punto siamo torniamo ancora la banca la banca può bloccarti i fondi la banca può bloccarti i fondi non ha problemi perché ci sono c'è un ampio ventaglio di regolamenti leggi contro leggi cavilli e cose varie che possono essere tranquillamente usate senza nessun problema dalla banca per bloccarti i fondi e tenerli bloccati per tutto il tempo che possa essere necessario questo può anche essere un blocco temporaneo per fare per ottenere nuove informazioni da parte tua per ottenere nuova documentazione da parte tua o per farti fare determinate cose per farti pagare altri soldi eccetera eccetera quindi di fatto la banca ha la gestione completa dei del tuo patrimonio e può diciamo dalla sua parte tutti gli strumenti legali per bloccarti i fondi e quindi impedirti di transare quindi di fatto ancora una volta escluderti dal sistema magari temporaneamente ma sufficientemente per crearti un problema che può anche essere un problema di sussistenza immaginiamoci di avere un conto bloccato e non avere i fondi per poter gestire le cose di base come comprarsi da mangiare o cose del genere quindi questo è un punto secondo me un ulteriore punto abbastanza importante per quanto riguarda bitcoin in questo quarto punto nessuno potrà bloccare i tuoi fondi fatto salvo naturalmente il caso in cui tu abbia gestito male le tue chiavi tu abbia perso le tue chiavi o queste chiavi possano essere finite nelle mani di terzi qualcuno possa averne avuto il possesso o per estorsione o per altre forme di violenza quando parliamo di riservatezza per quanto riguarda ciò che possediamo in termini di bitcoin e le ne parliamo tanto per motivi diciamo così fiscali per altri motivi ma ne parliamo proprio per una questione di pura sicurezza quindi se io posso avere una sicurezza sulle mie chiavi quindi le mie chiavi essere sicuro che le mie non sono accessibili terzi ecco che ho una sicurezza personale anche perché ho la sicurezza che non possa ricevere delle pressioni per dare queste informazioni per dare queste chiavi quindi non sono soggetto a delle forme di violenza quindi la privacy in questo senso è uno strumento di sicurezza per quanto ci riguarda per quanto riguarda la protezione non solo del nostro patrimonio ma la protezione della nostra sicurezza personale quindi tutte quelle aziende quelli organismi centralizzati che usano chain analysis usano analisi della time chain bitcoin per de anonimizzare le persone e quindi diciamo associare i fondi a l'identità delle persone di fatto mettono a rischio la sicurezza delle persone e fanno questo per ottenere un lucro quindi capite bene che un'azienda che riceve un compenso per fare un'attività per la quale qualcuno rischia la propria sicurezza decidete voi se è una cosa etica o no quinto punto quinto ultimo punto la sicurezza e la privacy dunque nel caso del sistema bancario tradizionale la sicurezza la privacy sono basate esclusivamente sulla fiducia che voi avete nei confronti di questo intermediario finanziario di questa banca nessuno vi dà nessuna garanzia voi date le informazioni i fondi tutto quanto consegnate a questa entità di cui non sapete nulla non avete alcuna informazione non sapete niente perché anche se è una banca ok magari ci sono i bilanci che sappiamo bene che i bilanci delle banche sono nella maggioranza dei casi abbastanza gestiti allegramente e quindi avete tutte queste informazioni a caso di qualcuno che non sapete chi è non sapete cosa farà non sapete cosa fa coi vostri dati dovete semplicemente sperare che vada tutto bene sperare che abbiano anche dei sistemi informatici sicuri e sperare che qualcuno non venga sapere le vostre informazioni patrimoniali e le posso usare per usarvi violenza quindi questo è quello che succede per quanto riguarda invece il l'aspetto 5 per quanto riguarda bitcoin e la sicurezza e la privacy sono invece nelle vostre mani questo che significa significa che più skill più sicurezza più skill più privacy quindi avete nelle mani la possibilità di difendervi la possibilità di difendervi è collegata a imparare studiare apprendere e a quel punto lì siete voi che decidete il grado di sicurezza e di confidenzialità che vorrete avere sui vostri fondi e conseguentemente la sicurezza della vostra vita privata ricordatevi che l'aspetto economico è sempre un trigger molto forte sia per poter costringere le persone a fare determinate cose sia per come incentivo per usare violenza quindi la sicurezza e la confidenzialità sui propri fondi non sono solo uno strumento per tutelare la proprietà privata ma sono anche uno strumento per tutelare la propria sussistenza e la propria incolumità quindi per questi motivi tutte le persone che mettono in discussione bitcoin che parlano di fiat e che diciamo loggiano il sistema finanziario tradizionale fermatevi un attimo a pensare alle cose che vi ho appena elencato e ragionateci sopra se avete qualche cosa da dire se non siete d'accordo con me non è necessariamente detto che siate d'accordo con me se siete se non siete d'accordo con me scrivetemi dei commenti sarò sicuramente molto contento di poter replicare a questi commenti a poter dibattere su questa cosa questo è quello che io rilevo come grosso problema per quanto riguarda il sistema finanziario tradizionale e il motivo per cui bitcoin è la cura grazie a tutti per l'attenzione